eccoci qua ragazzi scusate il ritardo ho dovuto stampare due casette che mi ero dimenticato ho visto che siete già numerosi buonasera benvenuti a tutti quanti ben ritrovati ho visto qualche bellissima facciamo subito una rapida carrellata di cose che già ho letto buonasera ad atletico manduria daniele del bel alessio guerra tonino perfili giovanni calabro carmello scanella davide bergamin tra un attimo ti rispondo davide roberto zanini walter predricola paolo pocchiari manuel narducci lorenzo valentini aldo pisano massimo robutti e manuel zaccarin no ce ne sono degli altri lorenzo ravaglia aldo pisano francesco buongiovi giuseppe panci giuseppe filippi quanti cavolo paolo cavalcanti giuseppe caquano e antonio vettore queste sono solamente le prime persone che si sono collegate evidentemente l'argomento è particolarmente interessante mamma mia ragazzi che stagione che stiamo vivendo ho letto con la coda dell'occhio qualche vostro commento ed obiettivamente ed effettivamente anche qui da noi oggi sta piovendo la pioggia è veramente ci ricorderemo questa stagione del prato ci faremo tesoro di questa stagione del prato in futuro proprio in virtù di questa pazzesca caratteristica che sta ci sta creando un po di problemi ritardi soprattutto cambiamenti significativi di programma e anche nuovi approcci alla concimazione allora prima di entrare nel dunque della della serata nel dunque del tema parleremo della concimazione del prato da fare in vista dell'estate perché comunque ne pensiamo oggi è il 27 di maggio teoricamente nel momento in cui veramente si dipannano le nuvole arriva il caldo noi domenica qua nel frio di venenza giuglia c'è stato uno spiraglio di sole e vi assicuro che batteva batteva come i primi sentori dell'estate quindi è solamente da aspettare ancora un po e probabilmente di colpo ci ritroveremo credo io calati in una stagione molto calda quindi una stagione che ha delle richieste ma prima di arrivare al tema introduciamo un attimino lo sponsor meglio non è lo sponsor vi ricordo che sabato prossimo oramai ci siamo sabato primo giugno alle ore 18 e 30 presso il giardino di parco rota san vito al tagliamento ci sarà la presentazione del libro a filo d'erba il metodo vesprato per avere un bel prato un libro che ho personalmente scritto e curato e che trovate disponibile in amazon due cose le voglio dire stiamo organizzando veramente affinché questa quella giornata sia una bellissima giornata come ho detto già le volte scorse ci sarà michele che allieterà con un po di musica tra l'altro abbiamo deciso di anticipare un po quindi se qualcuno di voi ha deciso di partecipare sappiate che l'orario è intorno alle 18 l'intervista verrà proprio sottoscritto avverrà alle 18 e 30 ma prima c'è comunque della musica per cui venite venite un attimino prima altre due notizie molto belle la prima è che ci ha dato conferma della sua presenza non è bello far vedere delle bottiglie di vino in diretta non so neanche se è permesso da un punto di vista della policy di youtube comunque questo sarà la cantina vediamo facciamolo vedere qua la cantina di ramuscello ci degusterà ci farà la degustazione finale con i suoi vini tra l'altro una ribolla gialla spumantizzata veramente molto buona è il vino che viene coltivato in queste terre nelle grave del friuli di venenza giulia e altra bella notizia per sabato siamo riusciti a trovare ne parlavo credo domenica la volta scorsa in diretta siccome siamo all'interno di una manifestazione che la piazza in fiore non si possono utilizzare dei bicchieri di vetro e non ci piaceva l'idea di utilizzare dei bicchieri di plastica anche se l'abbiamo trovato in plastica riciclata alla fine abbiamo trovato una bellissima azienda di che fa degli stampi in plastica in bio plastica quindi i bicchieri sono un po più opachi magari alcuno strocerà il naso perché non si non sono perfettamente trasparenti ma il bello di questi bicchieri che sono cento per cento non riciclati ma biodegradabili quindi veramente un occhio anche all'ambiente bene direi con questo è tutto già ho visto che qualche uno mi sta facendo le domande sulla maglietta eccola qua la maglietta questa è la maglietta ufficiale dell'evento di sabato la maglietta tra l'altro abbiamo fatto una tiratura molto limitata una maglietta un po particolare insomma con bel cotone con l'etichetta anche sul collo insomma è un prodottino che per coloro i quali decideranno di venire lo troveranno come gadget disponibile abbiamo avuto già delle richieste di persone che ci hanno detto se poi lo mettiamo anche nello shop di www.besprato.com ci pensiamo vediamo intanto abbiamo fatto una piccola tiratura per pochi e fortunatissimi 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 insomma dai per chi lavora poi vediamo se riusciamo magari anche a implementare magari potremmo aprire sapete cosa vi dico una una specie di prenotazione sul sito così vediamo se c'è un po di richiesta basta direi con tutto questo vedo vediamo un po la t-shirt da spalata si claudio mi piace bene 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 vedo già tantissime domande posso mettere fungicida ciao fabio ciao claudio antonio lolli alle x zacco giuseppe filippi simone girolimetto ciao simone giovanni calabro qua vedo che è andato giù completamente le immagini ecco che ci torniamo il viti ale washcar matteo ballestrucci lolli ponchi mamma mia maurizio moretti giuseppe filippi moanel zaccarin bene 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 direi bando alle ciance di nuovo è andata via la no scusate dovreste rivedermi è andato via per un attimo la cosa allora 21.09 abbiamo perso già molto tempo e direi di partire subito ho preparato anche questa sera un po di slide ok allora come si fa ad attivare non me ne ricordo più eccoci qua allora scusate se il video vedo anch'io che ha questi blink con questi queste piccole vediamo se sono in cavi riesco a sistemare qua mi pare proprio di no speriamo che si sistemi da solo allora concimazione potassica prima dell'estate tema molto importante un tema che non va assolutamente sottovalutato anche se ci troviamo in una stagione che ha poco che sembra poco estiva in realtà come ho detto e qui lo vedete nella slide tra un po tra poche settimane probabilmente tra un paio di settimane ci ritroveremo ritroveremo il prato catapultato in temperature che sia vi oltrepasseranno i 25 gradi forti esposizioni solari temperature che si alzano ovviamente probabilmente sarà un processo comunque che lentamente porterà la situazione ma io spero insomma in maniera graduale anche per evitare quei fenomeni di grossa evaporazione dei terreni che sono intrinsi d'acqua e che poi dovranno rilasciarla un po per capillarità un po per evaporazione e però l'estate adesso rappresenta una tra le stagioni più stressanti per il tappeto orboso o quantomeno una stagione nella quale avvengono degli stress molto particolari nella slide che vedete in sovraimpressione ho cercato di elencare quelli che sono cinque elementi stressanti che però adesso vorrei spiegarvi un po perché sono convinto che per riuscire ad avere un bel prato che si mantiene sano forte e bello tutto l'anno in realtà bisogna capire il funzionamento e la fisiologia del tappeto orboso in questi giorni in queste settimane mi sto appassionando a nuove letture che sono un po tutti i libri di stefano mancuso già alcuni testi li avevo letti adesso ho preso degli altri due tre libri e che sto divorando alla sera e ogni volta che leggo questo autore come dicevo la volta scorsa farò magari qualche recensione di qualche libro veramente rimango affascinato da come lui affronti il tema delle piante di come effettivamente la pianta sia in grado lei stessa di reagire di fronte a una situazione stressante la pianta intelligente la struttura radicale è una vera e propria struttura di intelligenza distribuita assomiglia un po i computer di internet questi apici radicali che alcune piante ne possono avere anche milioni che si coordinano tra di loro attraverso un'intelligenza di sciame che in grado poi di ricevere tutti i segnali che poi la pianta dà durante l'estate ho scritto come primo punto che uno stress estivo e la riduzione della fotosintesi voi direte ma come la riduzione della fotosintesi se la pianta riceve la massima esposizione solare perché durante il 21 di giugno l'equinozio d'estate 21 22 c'è tantissime ore di luce e quindi la pianta in realtà è nella situazione nella quale svolge la fotosintesi crorofiniana nel tempo più esteso nel tempo più esteso però cosa succede di estate succede che si alzano notevolmente le temperature e la pianta riesce a riconoscere sa ha dei sensori di umidità a dei sensori di temperatura che trasmettono dei segnali elettrici biochimici alle strutture radicali questi segnali sono dei segnali che potrebbero voler dire ho bisogno di acqua una parte della pianta potrebbe dire ho bisogno di acqua ho bisogno di azoto ho bisogno di potassio ho bisogno di fosforo fa molto caldo cosa facciamo ok e dobbiamo pensare che nonostante una pianta il nostro tappeto erboso non ha unità pensante cioè non ha come gli animali o l'uomo un cervello ha un'intelligenza distribuita quasi ogni elemento della pianta ha tutti gli elementi diciamo per poter ragionare e prendere delle decisioni e badatta bene che c'è pochissima differenza qualitativa qualitativa tra l'intelligenza di una pianta cioè della capacità di risolvere un problema ok l'uomo ha una capacità ha la capacità di risolvere molti problemi in virtù del proprio ragionamento in virtù della memorizzazione delle informazioni la pianta è lo stessa cosa solamente che lo fa a un livello quantitativo inferiore ma da un punto di vista della qualità dei ragionamenti che fa la pianta e della capacità di memorizzare poi di ricordarsi i comportamenti che ha avuti siamo sullo stesso livello per farvi un esempio quando la pianta è sottoposta a un primo stress idrico ok quindi ammettiamo che nelle prossime settimane vadano su le temperature e ci dimentichiamo di irrigare il prato bene poi ritorniamo magari siamo andati in vacanza ritorniamo irrighiamo il prato e a quel punto lì scusate che cambio un po' inquadratura per non farvi sempre vedere solamente la slide in quel caso lì la pianta poi noi gli diamo acqua se dovesse tornare la siccità la pianta reagirà in maniera già più forte si è ricordata che c'è stato un problema si è attivata finché se questo problema si riverifica sa che cosa fare e nel momento in cui il problema vedo veramente tanti sfarfallì nel momento in cui il problema si ripresenta ecco che la pianta riesce a rispondere in maniera più potente non solo più veloce più potente la pianta si è ricordata di questo stress e quindi mette in atto le le contromosse ma allora perché la pianta riduce la fotosintesi durante l'estate è semplicemente perché intelligente cioè cosa succede alte temperature la pianta esegue per cosa utilizza l'acqua la pianta utilizza per la fotosintesi corofiniana o meglio per mantenere il turgore della pianta la pianta la pianta graminacea il tabetto roboso una vera e propria struttura di tipo vascolare che ha bisogno di essere sostenuta attraverso l'apporto liquido ma il liquido è anche l'acqua e l'effetto della combustione diremmo così della fotosintesi corofiniana che l'ho detto molte volte assorbe luce assorbe anidride carbonica e rilascia vapore acqueo rilasciando vapore acqueo ho capito benissimo che se le temperature sono elevate la pianta se emana troppo acqua potrebbe rimanere l'essenza e allora cosa fa quando le temperature si alzano l'evaporazione inizia a diventare significativa riduce la produzione di energia meravigliosa meravigliosa risposta da parte della pianta ovviamente ridurre la produzione di energia se preserva il carico idrico della pianta dall'altra parte beh è un problema può inizia a diventare un problema perché la pianta produce meno energia attraverso la fotosintesi corofiniana viene pronto vengono prodotti degli zuccheri che poi gli zuccheri vengono combinati con l'azoto e con il potassio di cui tra un attimo andremo a vedere a capire la fondamentale importanza in questo periodo e va a produrre poi i mattoncini delle strutture vegetali le proteine e di carboidrati durante l'estate continuiamo un po più velocemente a parlare di questi stress giusto per metterli a fuoco è molto importante questa cosa non non la faccio solamente come lezione botanica ma perché ciascuno di questi cinque elementi la riduzione della fotosintesi la perdita di turgore da parte della pianta la presenza all'interno dell'estate di tantissimi elementi patogeni estremamente pericolosi lo stress idrico la mancanza delle irrigazioni e l'alta fruizione che significa il calpestio inquadrano un problema che poi noi dobbiamo andare a puntellare se in natura normalmente un tappeto erboso così come ci piace a noi non esiste nel senso che la biodiversità fa parte del prato il prato naturale il prato di montagna il prato di campagna non è propriamente un prato come quello che a noi ci piace di più questo non voglio aprire questo discorso nel senso che noi dobbiamo essere consapevoli che stiamo facendo una vera e propria coltivazione perché perché per noi quel prato lì è un prato di tipo ornamentale che deve essere fruibile che deve essere calpestabile facilmente che deve anche andare ad abbellire casa nostra io dico sempre che il prato è il primo biglietto da visita di una casa la prima impressione che un amico una persona un conoscente un visitatore ha di voi quindi il prato il prato all'inglese il prato ben tenuto con due tre specie uniforme rasato alla altezza giusta è veramente una cosa di una bellezza incredibile tra l'altro in questi giorni c'è il mio caro amico riccardo dal fiume il dottor riccardo dal fiume il mio professore alla scuola garia del parco di monza il quale sta postando seguite la sua pagina facebook perché sta posta sta postando come delle foto delle più belle architetture del mondo e di come tutte le più belle architetture del mondo luoghi storici luoghi architettonici bellezza lo stato puro abbiano di contorno sempre il prato allora tornando a quelli che riguardano gli stress sono importanti da inquadrare e adesso darò alcuni accenni soprattutto sulla perdita di turgore che è molto importante da mettere in relazione con quello che sarà la concimazione che dobbiamo andare a fare nei prossimi giorni perdita di turgore cosa vuol dire beh la pianta non so se vi è mai capitato di guardare il vostro prato dopo una settimana dieci giorni l'ottavo il nonno giorno che non lo irrighiamo in una stagione estiva cosa succede al prato il prato inizia il termine giusto sarebbe appassirsi cioè prima di entrare molti di voi quando notano il prato giallo dicono di estate dicono ecco gli manca acqua ma quello è uno stadio molto avanzato prima di arrivare un ingiallimento dovuto a una sorta di dormienza cioè il prato che in assenza di acqua che cosa fa se produce fotosintesi in corofiniana deve spellere vapore acqueo ma l'acqua non c'è e allora cosa decide di fare decide di interrompere la fotosintesi corofiniana non viene cioè più prodotta energia non viene più data colorazione la colorazione del prato non serve più il prato può rimanere in questo stato di decolorazione anche per diverse diversi giorni talvolume volte anche diverse settimane senza assolutamente morire per poi riprendere nel momento in cui lo irrighiamo non sto dicendo che è una pratica da fare sto cercando di spiegarvi come funziona poi la dinamica fisiologica del prato quindi l'acqua all'interno della struttura vegetale rappresenta proprio un diciamo così è il liquido del sistema idraulico dicevo se la pianta non viene irrigata notate nei primi giorni dopo una settimana dopo otto giorni che inizia come ad appassirsi addirittura la sua colorazione si spegne il verde da bello brillante intenso magari anche scuro inizia a diventare opaco la pianta proprio inizia come ad afflosciarsi a perdere turgore appunto e questo è un primo segnale che il prato ha bisogno di acqua la pianta chiude gli stomi respira molto peggio non riesce a liberarsi delle sostanze tossiche diminuisce la propria capacità di produrre energia e quindi inizia ad andare in stress bene questo è il quadretto degli stress diciamo estivi ovviamente durante l'estate la sfiga vuole che soprattutto quando ci sono dei periodi caldi e umidi vi sia la presenza dei patogeni delle malattie fungine più pericolosi in assoluto l'estate è anche il momento nel quale le avversità degli insetti delle larve dei coleotteri ne parleremo all'inizio del prossimo mese sono le avversità più terribili che può avere il prato che purtroppo si manifestano proprio in estate dello stress idrico non già parlato ma anche la tarda primavera l'estate è il momento nel quale anche utilizziamo il prato e il calpestamento del prato è uno stress il prato se non ha una sufficiente resilienza cioè se la capacità dell'erba di rispondere in maniera elastica ovvero se ha perso il suo turgore il prato subirà molto più facilmente un grosso stress dovuto al calpestamento stesso in tutto questo quadro questo quadretto che sembra negativo in realtà se noi lo affrontiamo con le giuste concimazioni con giusti trattamenti andiamo a dargli veramente un grandissimo aiuto e per cui entriamo nel capitolo del perché si dice che prima dell'estate bisogna eseguire una concimazione a prevalenza potassica allora facciamo un passo indietro andiamo a vedere faccio vedere anzi la slide ve la faccio vedere solo tra un attimo c'è un passo indietro perché quando si dice che il potassio è la nutrizione il concime che dobbiamo andare andare a dare poco prima dell'arrivo del caldo estivo diciamo una gran verità cioè se uno mi chiede fabio adesso qual è la concimazione che dovrei fare nel prato io ti dico è una concimazione di tipo potassico ma quando diciamo una concimazione di tipo potassico non dobbiamo pensare di dare solo potassio al prato ok il potassio generalmente va in un rapporto anche con l'azoto anzi alcuni studi recenti fanno hanno evidenziato come il potassio dato da solo non ha l'efficacia del potassio dato anche con una certa parte di azoto se noi andiamo a vedere durante il corso dell'anno fatto 100 il consumo di azoto quant'è il consumo di potassio è solo il 25 per cento circa in meno cosa vuol dire questo che se l'azoto rappresenta l'elemento che viene consumato di più dal prato per la produzione delle proteine dei carboidrati subito sotto c'è anche il potassio il potassio non è solo come vedremo tra un attimo un elemento minerale di importanza per la fisiologia e tra un attimo spiegherò perché ma proprio contribuisce alla costruzione delle proteine quindi non possiamo pensare di non dare potassio alla concimazione questo motivo per cui molti dei concimi anzi quasi tutti i concimi hanno sempre al proprio interno una certa dose di potassio facciamo vederle queste slide così magari le utilizziamo come traccia come ho detto il potassio scusate non ho però cambiato la eccolo qua il potassio quindi il potassio è il secondo macronutriente dopo l'azoto a un 25 per cento in meno e come vi ho detto concorre direttamente alla creazione dei carboidrati e delle proteine dei mattoncini però ecco che adesso entra un po più in relazione l'importanza del potassio diventa evidente con le altre voci che caratterizzano appunto i vantaggi i benefici del potassio promuove lo sviluppo cellulare ma in questo caso promuove lo sviluppo cellulare soprattutto della parte delle radici ora dobbiamo mettere a fuoco che quando si verificheranno le difficoltà idriche un po anche indotte da noi perché sappiamo che per mantenere a distanti le patologie fungine dobbiamo irrigare il prato tanto ma facendo delle lunghe pause queste lunghe pause servono al terreno ad asciugarsi e a evitare che si formino le patologie fungine ma in questa maniera l'acqua scenderà sarà disponibile al prato un po più in profondità e quindi le radici dovranno svilupparsi le radici le apici radicali che dovete sapere sono in grado di riconoscere la presenza di acqua anche a un metro di distanza cioè sanno che a un metro in quella direzione c'è acqua ovviamente generalmente in profondità e quindi loro si svilupperanno ecco che il potassio soprattutto nello sviluppo cellulare di tipo radicale ha dei grandi benefici ma se dobbiamo proprio dire la tutta l'elemento la caratterizzazione del potassio che più ci interessa è quella del controllo del turgore e del di essere come un regolatore degli equilibri idrici abbiamo detto un attimo fa di come questo sia l'elemento più importante legato alla stagione estiva cioè il mantenimento del turgore il mantenimento il controllo e il dosaggio dell'apertura degli stomi per effettuare il rilascio di vapore acqueo e quindi regolare molto attentamente questi processi fisiologici che sono dei processi un po' smotici un po' di traspirazione un po' di apertura di chiusura di questi di questi stomi il potassio è proprio l'elemento che fisiologicamente concorre di più al controllo e alla calibrazione di questi importanti processi altre due cose sempre in relazione all'estate sono molto importanti relativamente al potassio e sono uno che è stato provato che in per alcune malattie cito ad esempio dollar spot si sa che il far trovare in quantità sufficiente il potassio quindi l'assimilazione del potassio della pianta ha un contrasto in per alcune patologie fungine una voce che qui non ho scritto e che secondo me è molto importante mi sono dimenticato di citarvi e questa che scusate che torno con il mio bel faccione in diretta che proprio in virtù di questa capacità del potassio di mantenere il turgore ma non solo è stato provato che un tappeto erboso ricco di nutrimenti potassici ha una resistenza al calpestio che in parte dovuta al suo maggior turgore in altra parte dovuta anche a dei fenomeni di elasticità strutturale sua intrinseca dicevo che i tappeti erbosi che hanno un apporto di potassio significativo hanno delle capacità di diversi punti di diversa una capacità superiore di rispondere al calpestamento alla fruizione quindi allo stress meccanico bene fatto questo importante spero che sia tutto chiaro qui vengo un attimino in diretta scusate se non sono vedo 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 che sono arrivate già tantissime domande bene nonostante 39 di febbre lorenzo mamma mia a dire lettura copriti copriti e soprattutto riposati allora andiamo adesso a vedere a parlare fatto questo quadro entriamo nel dettaglio andiamo un po più in concreto sulla scelta del concime e lo faremo a partire da alcune valutazioni fatte sul titolo cioè che cos'è il titolo di un concime apriamo qualche slide facciamole vedere eccola qui però dobbiamo cambiarle fabio eccolo qua la scelta del titolo npk di un concime prima dell'estate sappiamo abbiamo detto che deve essere un concime a prevalenza o comunque con un alto tenore di potassio ma cerchiamo un attimino di capire assieme come possiamo affrontare la scelta del concime ben mettendolo in relazione un po alla vostra esperienza sul vostro prato alle condizioni che si stanno creando meteorologi meteorologiche ea quello che succederà allora iniziamo subito con fare un po di chiarezza e diciamo i fondamentali verrà molto spesso io mi dimentico parlo penso magari di parlare alle stesse persone e molto spesso invece le persone qui cambiano che cos'è il titolo no quando si dice il titolo io non capisco mai perché devono dire il titolo basterebbe solo dire la percentuale di azoto di potassio di fosforo che sono presenti all'interno di un concime ad esempio un 12 5 9 ok vuol dire che a 12 per cento di azoto 5 per cento di fosforo e 9 per cento di potassio 12 più 5 fa 17 più 9 fa 26 e voi direte sì ma il 26 per cento e il resto che cos'è il resto sono altre cose perché per contenere il concime ci sono degli inerti che servono o ad avvolgere o a contenerlo eccetera 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 i polimeri nel caso di concimi ricoperti metilurea piuttosto che altri sistemi di resine che avvolgono perché deve essere fatto il granulo il granulo va tenuto assieme e poi ci sono anche degli altri elementi che sono degli elementi leganti che variano da concime a concime il titolo è quello che va a definire la quantità di nutrienti che ci sono all'interno di un concime per farvi un esempio il concime che io considero uno dei concimi più potenti per l'estate più potenti tra quelli che conosco io per il tappetto erboso è un concime della botosso è un concime che trovate in www.besprato.com che molti di voi conosceranno è probabilmente uno dei concimi potassici per tappetto erboso più diffusi e più utilizzati oggi in italia dai professionisti sto parlando del mercato evoluto quindi non dei prodotti che magari si trovano in ebay amazon o nella nella grande distribuzione e il summer key summer key ha un titolo 10 0 30 significa che a 10 unità di azoto 10 per cento di azoto 0 per cento di fosforo e qui apriamo una piccola parentesi sul fosforo per dirvi secondo me l'importanza che non ci sia fosforo nel concime estivo e a 30 dico 30 unità di potassio è un concime veramente che è una bomba da un punto di vista di quello che è in grado di apportare come sostegno agli stress estivi proprio perché a questa altissima quantità di potassio unita anche una certa percentuale di azoto e tra e dopo nel come vedete nella slide ci sono i punti soppesare bene il titolo di azoto tra un attimo vi dirò le cose soppesare soppesare scritto malissimo bene il sistema di rilascio allora togliamo questa slide con gli errori di ortografia perché mi vergogno ok eccoci qua allora mettiamo a fuoco questo discorso della della tipologia di concime che dobbiamo andare a scegliere non sto dicendo che tutti devono scegliere per forza di cose di fare una concimazione con un 10 0 30 con un summer key che sia summer key di best prato che sia summer key della tempo verde o di altre aziende che fanno produttori di concimi della scotch no come si chiama della mamma mia ho i nomi vecchi in testa non me li ricordo neanche più da tanto e allora ovviamente noi dobbiamo conoscere il nostro prato perché la scelta del concime va messa in relazione al piano annuale in realtà dovremo anche aver fatto i più bravi tra di voi avranno fatto almeno una volta l'analisi del terreno perché l'analisi del terreno ci potrebbe far capire se quel terreno è scarico oppure ricco di questo importante elemento che è appunto il potassio perché da una parte l'azoto noi ha una liscivazione a una presenza nel terreno molto labile cosa vuol dire che l'azoto nella forma assimilabile da dalle piante facilmente dilavabile il potassio un po di meno ma molto spesso è presente molto molto poco nei terreni normalmente composti d'italia nei treni franco argillosi franco sabbiosi comunque nei terreni comuni è più facile trovare una carenza cronica di potassio che non un eccesso ecco che allora la conoscenza del nostro terreno ci potrebbe diciamo così indirezzare verso un concime che ha un altro titolo di potassio mentre se magari conosciamo che il nostro terreno è comunque ha già una sua presenza di minerale minerale potassio insomma discreta ecco che potremmo scegliere dei titoli un po più bassi io nel dubbio preferisco spingere un po su una concimazione più specifica e più ad alto contenuto di potassio per il semplice fatto che non ci sono da un punto di vista del potassio delle controindicazioni le controindicazioni esistono sull'azoto questo è il motivo per cui nella scelta del concime potassico nella slide che ho che vi rimetto in sovraimpressione ho scritto soppesare bene il titolo di azoto sì perché ecco che sbagliare il concime prima dell'estate perché soprattutto ha troppo azoto o ha un azoto in formulato sbagliato in composizione sbagliata abbiamo spiegato in qualche diretta fa di come l'azoto sia importante che sia presente in forma a lento rilascio durante l'estate perché potrebbe essere presente anche in forma a pronto effetto come quella nitrica in parte ammoniacale ma di estate non va assolutamente bene ricordiamoci sempre ragazzi che l'azoto e i concimi minerali sono dei sali e quindi soprattutto una forte presenza di azoto potrebbe provocare delle ustioni e delle bruciature nel prato ci arrivano quasi ogni estate delle fotografie di prati di persone che hanno concimato hanno utilizzato dei concimi normali magari dei concimi che avevano tutt'altri scopi con 12-13% di azoto e voi direte sì ma è basso sì però è tutto nitrico quindi a pronto effetto arriva il caldo e lì brucia il prato ma proprio lo brucia lo secca è come un diserbante ok quindi porre molta molta attenzione a la quantità di azoto presente e io come ho scritto nel soppesare nell'ultima voce di questa schifosissima scusate francesismo slide togliamo la macchia se non mi girano quello che va soppesato oltre a una quantità che non deve essere eccessiva 10-12% di azoto all'interno di un concime sono sufficienti per coprire parlo di un prato di microterma tutte quante l'estate ma l'azoto deve essere tutto a lento rilascio non diamo azoto nitrico al tappetto erboso se non attenzione a quello che sto dicendo in una stagione come quella che stiamo vivendo siamo ancora in temperature basse stiamo avendo pioggia il prato cresce le temperature non si stanno alzando se abbiamo eseguito una concimazione azotata molte settimane fa il prato potrebbe essere in carenza adesso di azoto abbiamo due scelte potremmo decidere di dare un concime potassico perché comunque il concime potassico va dato non quando l'estate è già nel pieno va dato adesso la prossima settimana la prima di giugno ok questa è la finestra secondo me ottimale nel quale dare un concime potassico magari possiamo aspettare qualche giorno in più ma non darlo a fine giugno perché là quando il caldo è già arrivato il prato sta già subendo magari la mancanza del potassio quindi sta già perdendo il proprio turcore dobbiamo sempre ragionare che quel potassio deve arrivare nel terreno le radici lo devono assorbire deve essere portato poi in circolo quindi c'è un processo che può richiedere qualche settimana di tempo per cui cerchiamo di anticipare un po' ma allora adesso potremmo fare una scelta di dare o da una parte un potassico che abbia un po' più di azoto tipicamente un potassico di tipo invernale ok se ne abbiamo un paio all'interno di vesturato chi conosce i concimi che abbiamo noi sto parlando ad esempio dell'autum K che al posto di avere 10 unità di azoto ne ha 20 mi pare quindi il doppio però è tutto quanto comunque a lenta cessione quindi se noi decidiamo di anticipare la concimazione potassica potremmo fare adesso utilizzare al posto del summer K un autumn K ovviamente è questo se stiamo notando che c'è una carenza nutritiva perché non è che dobbiamo spingere azoto in continuazione perché? perché l'azoto è portatore di patologie fungine aumenta il tasso di zuccheri nelle piante che quindi attraggono molto di più le patologie fungine quindi man mano che l'estate avanza non calcare la mano con i contenuti di azoto nelle prate è una buona norma un'altra soluzione è quella di dire ok facciamo una concimazione di emergenza prevalentemente solamente azotata e utilizziamo dei trattamenti fogliari abbiamo già detto questo approccio un paio di settimane fa proprio come concimazione suppletiva potremmo utilizzarla anche perché abbiamo deciso magari di aspettare la concimazione potassica di farla appena comunque sono terminate le piogge quindi questa forte intensità, questa forte presenza di pioggia potrebbe aver provocato una carenza di azoto nei terreni ecco che allora in questo caso prodotti come adesso cito prodotti che sono presenti all'interno comunque azoto ureico azoto ureico fogliare un concime che abbia un 10, 8, 10, 12% di azoto ureico può essere utilizzato come trattamento suppletivo di concimazione azotata prima di dare invece la concimazione classica potassica con un summer key XY che ha 10, 0, 30% dico l'ultima cosa e dopodiché avevo un'altra slide ma preferisco magari rispondere rispondere, dirvi le note delle slide mentre rispondere alle vostre domande perché so che ci sono tantissime domande quindi preferisco utilizzare il quarto d'ora finale per rispondere alle vostre domande piuttosto che darvi dei consigli dico solo quattro cose velocissime cinque, diciamo la prima importante secondo me non dare fosforo durante la stagione estiva per noi il fosforo esalta lo sviluppo della pianta in termini radicali durante la sua fase di crescita, di prima crescita e quindi aiuta lo sviluppo degli infestanti per questo motivo i potassici elettivi per la stagione estiva per il prato sono privi di fosforo due o tre piccoli trucchetti così andiamo proprio sul pratico e vi do delle indicazioni molto concrete poi lo scopo di queste dirette è anche questo prendiamo un po' di teoria diamo delle indicazioni di utilizzo e poi diamo anche dei trucchi trucchi insomma primo, buona norma tagliare il prato prima di concimare fare la concimazione potassica non fosse altro per far sì che il granulo arrivi subito a contatto del terreno e quindi rilasci i propri elementi nutritivi che se invece si intorcolano le foglie li rilascia sulle foglie e invece gli elementi minerali devono arrivare al terreno poi tagliarlo prima è utile perché non lo aspirate i granelli che magari non sono arrivati al terreno abbiamo l'erba alta poi la tagliamo e aspiriamo anche i granelli quindi si inizia sempre insomma la somministrazione di un concime granulare con un taglio non dico un taglio basso dimenticatevi il taglio basso prima dell'estate assolutamente un taglio a 5 cm di altezza e poi le classiche buone pratiche che sono relative a uno dimezziamo il dosaggio ad esempio se decidiamo di dare un 30 grammi di summer cake facciamo un 15 grammi facciamo un appassaggio in un senso e poi gli altri 15 in un altro senso in questa maniera dimezziamo il rischio di errore e poi lasciate perdere tutte le tabelle di apertura della leva dei carrellini io consiglio di spargere i concimi solo a carellino tra l'altro io quando lo faccio lo faccio addirittura con quello a caduta perché sono psicotico non utilizzo nemmeno i carellini quelli che spargono a 2 metri ma utilizzo proprio il carellino da semina cioè sto 10 minuti nel prato per concimare ma perché mi piace così tra l'altro risparmio anche l'acquisto di un carellino però insomma ho un praticello molto piccolo mi rendo conto che fare 500 metri quadri con il caduta comprate i rotativi ma sia il caduta che il rotativo la prima cosa da fare è quello di tararlo nell'articolo del blog che ho scritto che abbiamo appena pubblicato la scorsa settimana che è stata anche oggetto credo della newsletter ci sono scritte proprio un semplice passaggio per passaggio come si effettua la taratura del carellino comunque nella descrizione di questa diretta credo che ci sia anche il link se no dopo ve lo metto infine dico solamente questa nota poi vengo veramente alle vostre domande ed è questa mi chiedete molto spesso se dopo aver concimato va irrigato la risposta è dipende cioè nel dubbio fate una leggera irrigazione sempre perché? perché l'irrigazione con taluni concimi serve ad attivare il processo di degradazione quindi di scomposizione degli elementi nutritivi con altri concimi non serve soprattutto con quelli più evoluti con quelli che sono a controllo osmotico il terreno adesso è carico di umidità i migliori concimi per dirvi appunto di summer key ha un controllo da polio osmotico se già l'umidità stessa del terreno è in grado di attivarlo quindi non servirebbe ma se volete farla basta proprio un'inumidità non è che dobbiamo andare a bagnare il prato bene c'erano delle altre cose ma caso mai faremo un'altra diretta vedo che ci sono tantissime domande quindi preferisco venire a rispondere a tutte le vostre domande che veramente devo andare un po' rapido allora mettiamoci comodi e partiamo allora buonasera Fabio io farei più una lezione sull'uso del canotto pensavo fosse una domanda Platonino allora meno male che l'acqua fa mercire i pali oggi piove a proposito presente a San Vito sabato con tutta la famiglia se non piove bambini piccoli grande Giovanni mi raccomando vieni che stringermi la mano a presentarti sono pronto curioso di conoscerti Davide la maglietta di Besprato la maglietta di Besprato ok ho capito l'input ne abbiamo fatte molto poche abbiamo fatto questa magliettina molto trendy le faremo dateci tempo adesso per coloro i quali verranno sabato avranno questa bella sorpresa allora vediamo vediamo buonasera buonasera online nonostante 39 di febbre ok concimazione azotata Aldo Aldo Pisano ciao Aldo concimazione azotata è stata fatta il 9 di marzo quindi parecchio tempo fa sprintenne secondo me è prato scarico di azoto anche secondo me Aldo ho deciso di dare help perché non macchia le pietre mi puoi dare frequenza e dosaggi guarda se la fai adesso con l'help ok che ha i micro elementi basta un'applicazione il dosaggio adesso a memoria non me lo ricordo dovrei andare a vedere credo che sia guarda te lo guardo ma credo che siamo intorno sui 100 millilitri per 100 vediamo un attimino dai facciamo così così te lo do se risponde un po' allacremente ho il sito che questa sera niente da fare Aldo te lo dirò dopo dai adesso non ce la fa comunque va diluito in acqua nei classici 10-15 credo che sia sui dai 50 ai 100 secondo me potresti utilizzare siccome tu hai fatto la concimazione a marzo io utilizzerei il dosaggio massimo della sua finestra eccolo qua scusa e quindi vi andrei diciamo guarda scusatemi ancora molti di più vedi che ho fatto bene a cercare io utilizzerei il dosaggio di 300-400 millilitri cioè il dosaggio massimo indicato e farei un'applicazione unica ovviamente fai comunque attenzione di non farlo in esposizione solare quindi scegli una giornata così deve esserci foglia asciutta 24 ore di tempo diluisci in 10-15 litri d'acqua e usa questa quantità per 100 metri quadri ok Aldo? bene qua mi sono apparse tutte quante le finestre allora andiamo avanti buonasera ho macchie piccole gialle sul prato può essere una concimazione effettuata male Giuseppe può essere se sono macchie piccole concentrate gialle che vi sono venute fuori quando ha smesso di piovere intensamente potrebbe anche essere un gatto un cane che fa la pipì mi sono arrivate già diverse immagini che sono quelle evidentemente anche i gatti aspettano di andare a fare la pipì nel prato appena la pioggia è terminata però sì se una macchia è piccola non c'è allone bianco generalmente le malattie adesso si manifestano così o c'è la ruggine o c'è questi filamenti bianchi la rezzarctonia solani le prime apparizioni eccetera ma se sono molto concentrate è difficile casomai nel dubbio mandaci pure un'email con una foto allora Zacco no Ale cosa ne pensi ciao Fabio concimato con Summercake Claudio ottima scelta cosa ne pensi dei concimi con diserbanti non ne penso bene Alex perché io sono sempre dell'idea che facciamo fare una cosa a un prodotto è solo quella quindi specializzazione no quando un prodotto fa più cose è sempre un compromesso questa è la mia è la mia allora domanda posso mettere fungicida assieme a diserbanti a foglia larga ripeto separa le due cose fai due trattamenti separati il fungicida tra le altre cose il mio consiglio è sempre quello di fare i trattamenti separati Giovanni Calabro la domanda è questa ruggine nel prato concimato regolarmente con Spring 10 e poi con Universale visto che il ruggine viene per carenza di azoto con cosa con cosa concimare adesso un po' di concime liquido e poi allora assolutamente sì gli do tre consigli fai una concimazione trattamento liquido azotato con un azotureico un help un green up ad esempio potresti utilizzare il green up se hai ruggine che ha anche un po' che ha un po' più di azoto evita di tagliare il prato per qualche giorno se esegui il taglio fallo solo con raccolta e se il focolaio è molto ristretto Giovanni potresti utilizzare del normalissimo ossicloruro di rame ok del rame che serve a debellare la malattia però utilizza questo prodotto che è un prodotto concesso anche in agricoltura biologica utilizzalo solo se è un focolaio piccolo se è molto esteso rischi poi di andare a dare delle quantità di rame che vanno a modificare il pH che creano interazioni che sono comunque dei metalli pesanti e quindi che non fanno bene ok ciao ciao Simone buonasera San Marcheo universale di lavamento del concime le t-shirt sì i viti un salutone un grazie come sempre il guru ho preso il libro bene Ale fammi sapere se ti è piaciuto il libro ricordo a filoderma il metodo besprato per avere un bel prato lo trovate in Amazon Manuel Zaccherin Fabio visto che siamo conterranei e dobbiamo ancora seminare guardando le previsioni pensavo giovedì o venerdì seminate anche voi in quei giorni vi tengo come riferimento allora Manuel vedo che ci segui abbiamo deciso noi di dobbiamo ancora fare le lavorazioni abbiamo iniziato sabato in questa finestra di tempo oggi dovremmo completare noi abbiamo completato credo che semineremo la prima settimana di giugno però non ci devi seguire nel senso che noi lo facciamo volutamente perché io adesso sto consigliando di spostare le semine a settembre perché bisogna veramente saperle fare è pericolosissimo il fallimento cioè io so già che il prato di best prato fallirà tra virgolette non verrà bello subito ma come ho spiegato più volte lo facciamo apposta lo facciamo per far vedere le infestanti per far vedere i problemi della scarsa crescita di estate i diradamenti per andare a coprire il diradamento a settembre quindi è un po' rischioso quello che vuoi fare però insomma dai ok Aldo ho ricevuto il messaggio grazie Filippo non c'è problema va benissimo ok il Viti ci vediamo a Bibione ma do splendida la miglietta sì ok bene 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 allora Ale Wash quando dovrei dare Super Tarf visto la stagione io sono in zona Forlì Bigore Liquid quando va dato allora inverti Ale dai acidi umici acidi fulvici che è il Bigore Liquid quindi sostanza organica nobile al terreno che poi la decomporrà e ne trarrà azoto il Super Tarf dallo subito dopo secondo me non aspettare ancora di dare Super Tarf perché potrebbe essere un po' inutile dare così tanto azoto nelle prossime settimane ok Super Tarf comunque non ti deve preoccupare più di tanto perché l'azoto è a lento rilascio da polio ciao sono Filippo mi dice Filippo sabato seminato trasseminato al prato domenica e lunedì tanta pioggia cosa devo fare nulla Filippo la germinazione è un vero e proprio atto di vita influenzato da mille fattori siediti lì lascia che la natura faccia il suo corso la pioggia avrà spostato i semi adesso andare nel prato e andare a risistemare e crei solo pasticci ok Davide sabato ho passato summer sky ma le piogge previste fino a mercoledì potrebbero dilavare il concime no Davide non ti preoccupare direi di no Davide non ti preoccupare se mancherà azoto lo capirai lo capiremo magari lo valuteremo potremmo fare potremmo utilizzare always trattamenti liquidi integrativi magari mescolare un po' di always con un po' di pregate e un po' di green up o di help quindi fare un piccolo cocktail parleremo dei cocktail quest'estate vorrei proprio fare delle dirette sui cocktail per l'estate perché ci si può divertire anche nella gestione del prato cioè dobbiamo pensare di essere dei piccoli sperimentatori tante volte saper leggere e molti dei prodotti che sono a disposizione quest'anno ci permettono di andare a giocare tenendo sempre d'occhio girandosi dietro dicendo che cosa ho fatto fino adesso nel mio prato vedendo la sua storia e capendo per cui di che cosa potrebbe avere bisogno grazie Gianfranco e di complimenti allora Alessandro perché non abbondiamo di potassio tutto l'anno anche quando non c'è stress perché diciamo così i fabbisogni di potassio sono maggiori in determinate situazioni nel quale il potassio viene utilizzato di più perché c'è più controllo idrico da fare perché c'è più colpestamento perché c'è più apertura e chiusura degli stomi questi sono i motivi per cui il potassio viene dato di più prima dell'estate e prima dell'inverno il biostart allora scusa Stefano Stefano C ciao Fabio tra sabato e domenica ho fatto taglio medio basso scarificazione e risemina con maciste ho piovuto subito ora quando devo aspettare per dare giù il concetto il mio biostart Stefano dovrei darlo subito quindi darlo domani oggi non aspettare di darlo ok ciao Fabio ho una profondità di terreno di circa 50 cm ci possono essere dei problemi 50 cm no il problema è cosa c'è sotto perché se sotto hai cemento potrebbe accumulare calore ok quindi probabilmente ti chiamerà a essere siringato si dice questo termine in inglese cioè raffreddato il prato in estate Francesco Bon Jovi Fabio do vigor liquida a cadenza mensile è utile dare anche natural green estate inverno oppure sarebbe una ripetizione è un po' una ripetizione Francesco ciao Fabio vorrei sapere quando concimare con che cosa il nuovo prato seminato con maciste e concimato con prostarto un mese fa crescita irregolare alcune zone bene altre rade e tanta pioggia allora Oriani il mio consiglio è quello di fare adesso una concimazione di tipo fogliare azoto ureico utilizza un prodotto se vuoi utilizzare i prodotti che sono all'interno di besprato comunque dell'azoto ureico quindi ti ho dato il principio attivo il prodotto potresti utilizzare nel tuo caso un help help ok con l'h davanti e dopodiché ovviamente la concimazione potassica lì puoi utilizzare nel tuo caso siccome il prato è giovane io starei bello carico quindi utilizzerei il conosciutissimo summer key Roberto Zannini ciao Fabio volevo un consiglio dopo la pioggia volevo fare un trattamento di induzione di resistenza posso mescolare shield con c strong con l'aggiunta di always o è meglio farli singolarmente allora Roberto c strong il silicio ha bisogno per svolgere le sue funzioni per lavorare al meglio di essere dato da solo o solo assieme ad always agli acidi umici cioè tieni separato shield e c strong fai un'applicazione di shield con always e fai un'altra applicazione di c strong con always magari lasciaci pure due o tre settimane uno dall'altro scusate qua mi si è ho perso eccolo qua io ho optato per lo slow key per usarlo anche in primavera è un ragionamento sbagliato assolutamente no massimiliano ho utilizzato uno tra i concimi migliori per la concimazione potassica è solo leggermente diverso a livello di quantità di azoto e di sistema di rilascio lo slow key va benissimo non brucia da una quantità un po' più grande di azoto questo lo rende perfetto anche per essere utilizzato durante l'inverno quindi hai fatto un'ottima scelta vedete che non è che bisogna per forza di cose andare solo sul summer key lo slow key è una valida alternativa se uno dice voglio un prodotto che sia specifico ma che poi magari vado a riutilizzare ecco una cosa se vuoi che ti posso dire dello slow key è quello di non aspettare troppo lo slow key può essere una ottima soluzione di concimio ipotassico da dare adesso che non è ancora arrivato quindi anticipare quando si utilizza dei potassici con un più alto tasso di azoto anticipare la concimazione Filippo grazie per quello che fate grazie Filippo va bene slow key tra 15 giorni no come ti ho detto ho seminato sabato scorso come ho detto prima ah no ok se hai concimato sabato scorso si attendi di dare lo slow key se già ci sarà tanto caldo slow key abbassa un po' il dosaggio mettilo in quella fascia minimo viene dato sempre il range a 25 mi pare a 35 danno nel dosaggio inferiore ciao Fabio dopo la concimazione preestiva si può continuare nei mesi successivi con le biostimolazioni Gregory non è che si può si deve si deve parleremo delle biostimolazioni estive secondo me sono fondamentali per la gestione del prato in estate sì esempio pre stress esempio pre stress e always sono i due elettivi della stagione estiva pre stress è una manna dal cielo è veramente uno dei prodotti biostimolanti perfetti per le stagioni come l'estate questo weekend darò vigor liquid dice Riccardo è da una settimana 10 giorni summer key perfetta combinazione Riccardo proprio è il consiglio che daremo tra le altre cose mercoledì nella newsletter ciao Fabio bella maglietta grazie Fabiano Vito del Re ciao Fabio dopo la rasatura bisogna annaffiare il prato non necessariamente diciamo che già il taglio rappresenta uno stimolo alla crescita ok bagnare il prato serve se il prato ha bisogno di acqua diciamo che non ha una ragione certo dando acqua il prato apre di più gli stomi quindi fa una ricrescita più veloce se hai questo tipo di esigenza bagnano pure dopo aver tagliato ciao Fabio dopo la concimazione potassica always è consigliato assolutamente sì always dobbiamo sempre vederlo come al di là di tutti gli effetti secondari come un ottimo depuratore delle strutture vegetali quindi quando le temperature si alzeranno ci saranno i colpi di calore ecco che always gli acidi umici di idrolizzato proteico aiuta lo svolgere delle attività vegetative Giovanni Galli ciao Fabio chiedo un giudizio sul mio operato fine febbraio vigor liquide areaggiatura metà marzo green up ok primo aprile sprintenne ok programma antifungino alla letra Yeming Summer Kay 10 lode dimenticavo acqua non eccessiva a meno di 100 ml in tre settimane misurati con pluviometro best prato bravo Giovanni perché la misurazione proprio dell'acqua è quella la cifra che ci permette di ragionare in tutto il tuo prato adesso fondamentalmente ha tutto quello di cui ha bisogno lo sprintenne sta ancora lavorando adesso gli darai il summer Kay ottimo stai lavorando sull'antifungino direi metti in programma magari per giugno qualche induttore di resistenza magari un pregate ecco che costa poco e rende tanto e sei veramente da da 10 da 30 e lode gibao 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 buonasera fabio posso attendere qualche giorno prima di concimare con summer Kay assolutamente sì pensavo nel look assolutamente sì simone gironi metto fabio mi è saltato consemina carrello spaglio 500 metri quadri di prato anziché trarre il carrello peso prima al concime so che devo dare tot chilogrammi quindi giro più volte finché lo do tutto ci può stare non è male simone non è male non è male non è male ovviamente va bene se giri più volte cioè se ti ritrovi a girare più volte perché se non ti ritrovi a girare più volte giri una volta e mezza poi in un prato in una zona potresti avere più zona diciamo che se fai tanti giri ok ci può stare però è la logica del robot tagliaerba sapete no come fanno come fanno a tarare come fanno a sapere il robot tagliaerba di aver effettivamente tagliato il prato non ci siete mai chiesti sulla base del tempo che stanno fuori loro sanno che per tagliare in tutto quanto passare almeno credo random tre o quattro volte nello stesso punto incrociato c'è bisogno di x ore x tempo x chilometri fatti fuori quindi stanno fuori per quel tempo ok io comunque Simone la taratura la farei a meno una volta così ti rendi conto non stai tanto dai e più mettersi lì e trovare il tempo di farlo un prato non folto come nel mio caso potrebbe dipendere dalla concimazione no no avendo messo summer cake posso mettere in un secondo momento help sì perché no puoi metterlo tranquillamente help si utilizza anche in piena estate sto imparando a irrigare con 10 litri in metro quadro ogni 5-7 giorni con temperature di 20-22 gradi e sto capendo che il tappeto arboso cresce meno ma sta in salute risparmio acqua e tengo lontane le malattie frugine bravo francesco bravo francesco Stefano C finora ho dato sprint 10 a metà di aprile poi bio stimolato circa due settimane dopo ora con la rissemina ad obbi e star a metà di giugno posso dare summer cake assolutamente sì summer cake Stefano è un concime che può essere dato anche nel momento in cui anche in piena estate bene 2209 abbiamo concluso con un passo lento ma costante tutti gli argomenti vi volevo dire a dare alcune anticipazioni ok mercoledì spediremo la nostra newsletter nella quale daremo proprio le indicazioni concrete pratiche della concimazione potassica di come eseguire la concimazione potassica essendo ovviamente una newsletter dedicata a tutti gli amici specifici di Best Prato che utilizzano i prodotti di Best Prato ma anche non solo daremo comunque le indicazioni dei nomi cognomi dei concimi e di tutti i dosaggi da utilizzare in tutte le scelte che possiamo fare che abbiamo parlato oggi quindi iscrivetevi nella newsletter vi ricordo per l'ultima volta questa credo che sia l'ultima è l'ultima volta in diretta sabato primo giugno alle ore 18 presso il parco rotta di San Vito al Tagliamento vi ho messo in descrizione i link ci sarà la presentazione del nuovo libro di Best Prato a filo d'erba il metodo Best Prato per avere un bel prato spero di vedervi e basta con questo veramente vi saluto buon lunedì sera Daniele anche tu vuoi la maglietta di Best Prato allora mi avete convinto dopo la presentazione del libro faremo la ristampa perché credo che andranno fumate tutte quante le abbiamo stampate abbiamo fatto la tiratura limitata per pochi eletti faremo prometto faremo metteremo faremo una nuova tiratura di magliette e le metteremo in prenotazione nello shop di Best Prato bene sto allontanando il microfono perché sono stanco questa sera sono stanco e voglio chiudere dai ragazzi ok va bene perfetto vedo che Emanuele mi dice sì ok è un impegno faremo le magliette e le metteremo nello shop ciao ragazzi buon lunedì sera a tutti per chi c'è ci vediamo sabato per chi non c'è ci vediamo lunedì ciao a presto buon lunedì ciao a tutti